La Camera di Commercio di Teramo ha aderito anche per l'anno 2019 al progetto Eccellenze in Digitale promosso da Union Camere e Google. L'iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura dell'innovazione digitale nelle micro e piccole imprese attraverso attività di promozione delle opportunità legate alla digital economy, all'innalzamento delle e-competence e alla riduzione del digital divide. L'obiettivo della partnership tra Union Camere e Google è quello inoltre di avvicinare giovani laureandi e laureati altamente qualificati al mondo del lavoro e in particolare a un settore in crescita come quello delle tecnologie di informazione e comunicazione. Questa è una provincia comunque dinamica, la nostra iniziativa come Camera è la quarta edizione che abbiamo messo a disposizione due valenti giovani che faranno la consulenza gratuita al nostro mondo imprenditoriale e quindi siamo fiduciosi che le percentuali ancora non soddisfacenti aumenteranno. D'altronde, ripeto, le risorse che noi stiamo mettendo a disposizione sono orientate molto su questo. Posso annunciare che il 20 apriremo i due bandi, uno per quanto riguarda le start-up giovani 18-35 anni e l'altro sulle donne e dentro al capitolo proprio di questi bandi ci sono delle voci particolari proprio per dare contributi a chi vuole digitalizzarsi. Quali sono i settori nel nostro territorio che hanno maggior bisogno di sviluppo digitale? Allora, indubbiamente i settori che hanno bisogno maggiormente sono il settore industriale in cui scontiamo comunque un'arretratezza dovuta un po' alle tecnologie che ancora non sono del tutto sviluppate sul territorio e anche un po' diciamo da una miopia su questo posso permettermi di dire di alcuni imprenditori che ritengono ancora che il digitale sia per l'impresa fondamentalmente un costo e non un'opportunità di fare business. Invece voi cosa dite? E noi diciamo che invece bisogna svilupparlo assolutamente in quanto per le piccole imprese oramai il digitale significa sopravvivere, per le medie imprese significa spiccare definitivamente il volo e aumentare appunto il proprio giro d'affari e il di business. Come approcciate l'azienda? Allora, approcciamo l'azienda in maniera sia collettiva, quindi creando degli eventi dove tutti possono partecipare e illustrare collettivamente le proprie esigenze, sia in maniera individuale cercando di fare degli incontri one to one con la singola impresa per capire un po' le problematiche legate al digitale della singola impresa e quindi sviluppare un canale preferenziale e più specifico per il settore di appartenenza.